La Procura della Repubblica di Napoli, all'esito di indagini coordinate dalla Guardia di Finanza di Napoli, ha disposto il sequestro di oltre un milione di mascherine chirurgiche, semi maschere facciali e visiere facciali, destinate ad essere immerse sul mercato, prive dei requisiti necessari. Le indagini hanno interessato diversi imprenditori, titolari di aziende per il commercio ingrossio a dettaglio, di prodotti di largo consumo, che hanno intensificato, in concomitanza con l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, le importazioni dirette dalla Cina di ingenti quantitativi di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione non conformi alle normative. In particolare l'attenzione degli investigatori si è inizialmente focalizzata su alcune spedizioni internazionali di merci sospette, operate da soggetti già noti come gravitanti nella contraffazione. In tal modo è stato possibile risalire all'intera filiera commerciale, prevenendo il complessivo sequestro dell'ingente numero di mascherine e altri dispositivi di protezione risultati non a norma. I citati dispositivi di protezione prodotti in Cina sono giunti in Italia attraverso vettori aerei, sfruttando transiti in paesi con accordi di libero scambio con l'UE, che consentono la libera circolazione delle merci in assenza di controlli doganali. I prodotti, oltre a riportare la marcatura CE e ingannevole, erano anche accompagnati da diverse tipologie di certificazioni, tra cui talune totalmente contraffatte. Infatti i certificati rinvenuti riportanti riferimenti tecnici e normativi solo apparentemente corretti e il logo CE, riprodotto in maniera ingannevole, attestavano fraudulentemente la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali. Le società produttrici cinesi, inoltre, non sono risultate tra quelle autorizzate dal governo cinese a esportare prodotti utili al contrasto della diffusione del Covid-19. Le mascherine e le visiere sequestrate, sottoposte da analisi tecnici e medici dell'ASA Napoli 1 Centro, sono state declassificate a prodotti per la collettività e pertanto utilizzabili dalla collettività stessa per la riduzione del pericolo da contagio da Covid-19. A conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica ha ritenuto di disporni alla devoluzione gratuita alle istituzioni identi no profit operanti sul territorio campano napoletano, per la distribuzione a soggetti bisognosi, oltre che alle diverse forze di polizie, e così dotare gli enti pubblici e solidari di presidi assolutamente necessari al contrasto della diffusione del virus.